Quest'anno ho scritto una letterina a Babbo Natale a proposito degli egoreati, ho chiesto a Babbo Natale di intervenire con i suoi mezzi strapotenti nel cuore di Squinzi perché finalmente si ammorbidisca, non lo faccio per i miei figli che ormai sono grandi, ma lo faccio per quei milioni di genitori che hanno i figli piccoli e che hanno bisogno di vivere in un paese più civile. A Squinzi chiediamo di smetterla di opporsi, come ha fatto fino ad oggi Confindustria, al passaggio al Senato della legge sugli ecoreati e ai miglioramenti che questa legge può ancora vedere. L'Italia ne ha bisogno, ci sono troppi milioni di persone che vivono in aree a rischio dal punto di vista dell'impinamento, delle bonifiche, non c'è solo la terra dei fuochi, non c'è soltanto l'ilva di Taranto. C'è bisogno di un salto di civiltà in questo terreno, la politica, il governo e il Senato oggi hanno una responsabilità fortissima. Noi spingiamo perché questo grande problema finalmente si risolve e per questo chiediamo a tutti quanti di firmare l'appello al Presidente del Senato Grasse e ai senatori che finalmente approvino nel più breve tempo possibile la legge sugli ecoreati.